Te ho detto? Ah, ecco, no, non credevo una cosa così pesante Però, insomma Che figa, e poi? Cioè, gli Zeppelin? Non so dove li va il padre di Gao Esatto Per una volta ragione Che è? Che stanno andando a distruggere il villaggio Esatto 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 Eh sì, ci teneva a tenere Era come avevamo passato Assolutamente buono Ma tu, ma sta zitto Invece di dire cazzata caso Sì, bisogna provarci Questa macchina di Gao Do you know how to make it work? Could you fly it? Uh, sì L'edipo il terello Sì, vabbè Sì, vabbè Ho capito È una domanda sì No Cioè, non è che mi devi dire E raccontare come ho fatto Esatto Esatto 3 per pilotare con la roba lì Vabbè So, you don't really know No No, non lo so If you actually cared about the safety of this machine You wouldn't be about to fly it into a swarm of enemies What guarantee do you want? Che non rompi quello There's a handle attached to something like the range of an oxyok You move it left and right, forward and back It should swim through the air fairly smoothly Ok Quindi funziona come uno strotto So, it's like flying a swimming ox Quindi è come far volare Una Una mucca Che Muota Perché sei uno strotto Non dirmi che vai a memoria a fin di questa terza ritazzo Ma baffanculo Sono venuta qua? Sono passata in questo posto di merda Sono entrata nella caverna E tu fai gli occhi dolci al suo stronzo Ma baffanculo Esatto Esatto Sì, ma Cioè, capisci che Ma quindi Adesso facciamo una bella battaglina Tipo L'Indiano Jones Ma da, ma guarda Che figava L'onzo di verdino Ma è bellissimo Ma è bellissimo Ah, ma c'è il posto di merda Ma dove è che sta andando? Non ho capito Oh, cazzo Press 8 fire primary weapon Ma sì Press extract Activate your upgrade Ma dai Ma che figata Ma questo è bellissimo Ma dai Ma bello Vieni qua Ma non è bellissimo Ma non è bellissimo Ho fatto una cazzata Ho fatto una cazzata Chi me? Ah 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 Traspectables Why should I boss? Eh dai eh Eh Mari Eh Ah Ah Se siete interessati a un gioco così Simil così The Blue Flamingo Non costa niente Ed è veramente 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 Bello Però era carino Questo 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 Credo sia su GOG Anche su Steam Ma ogni tanto C'è nei pacchetti Delle offerte di GOG Io l'avevo trovato Con un tipo Arcade package No Questo non può essere È molto carino È un perdone È un perdone È un perdone Eh sì Se per annuncesto Non vuol dire che O sono morti tutti O Hanno il vecchio del tempo Però magari Vediamo Esatto Sono d'accordo con chi Andiamo a trovare lo strozo Esatto Andiamo a trovare Andiamo a trovare Il maestro Di Stigrandissimi cazzi Andiamo Andiamo Radiant Aura Oh nice Ma Nemo Sì facciamo salvataggine Scusate Io sono un pochino Un pochino fissata però Non giocando solo con Per me No It's all gone Why did Gow's father do this Why are you here Ma secondo me ha qualcosa A che fare con Con l'imperatore Nel senso Cattivo Il time Sì ho capito Quelle fatte Quindi non sapete Niente più di comanda Quindi probabilmente Esatto Gow the greater E' un pochino Del imperato Anno Scusate non ci vediamo Vieni qua Vieni qua Mi sembra un po' la forma Tipo quella di Di Kill Bill Della Della Conna che era Della 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 Ok Questa No 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 Vieni qua Che dobbiamo far fuori curi Dai Su Su Vieni qua Eh dai Se stronzo Scusate Ecco C'è un pochino più facile No credo che di qua non si vada Andiamola via Questa principale Quella Oh Fuck Fuck me Salvataggio Salvataggio Salvamo 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 Come se non ci fosse domani Perché probabilmente non ci sarà Ma chi è questo stronzo Cosa 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 Ah Ok Eh Alla Senti Cosa Cosa Esatto, ci avrei giurato Esatto, carico Oh f*** Dai, non vedi Ma dai, ma abbiamo fatto uno spedino No, scusate, mi ero concentrata Spero l'ho sbagliato E dai Ok Agora Ok Parca p***na Aspetta, facciamo fuori prima una stagnotta Oh f*** Dai, b*** Non, per favore E mari E dai E dai Non, dov'è a Smiley Mountain Magari pute in la posizione Ma dai, ma dai Ma dai, ma dai 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 Ma ai Ma dai Ma dai Ma dai Ma Ma I tried so hard I'm sorry Che sfiga Però, chi è questa qui? Perché pensavamo ci fosse il padre dei crown dietro a tutta questa E forse non è tutta solo Quindi Ok, quindi il maestro Dio loro quello che vogliono Ma dopo, i studenti Sono uccisi Hanno preso il massimo, hanno ucciso tutti I assassini I assassini I assassini Quindi sono questi assassini I assassini I assassini I assassini Aspetta Aspetta Ah Ok, quindi La tizia Si chiamava Death's Hen Ehm Mano della morte Ed è quella che Che controlla gli assassini Del lotto Quanto pare Ehm No, sappiamo perché sono venuti Ehm Ehm Oh Ma Ehm 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 Quindi non era la donna ma l'uomo No, secondo me lo sapeva già Gao doveva fare una conferma Che lui fosse il fratello dell'imperatore Oh fuck, non è possibile Si è lui Quindi c'è un terzo fratello Non ha tutti i torti Quindi a quanto pare il Su, Sagatio Su, dice Non è possibile che il vostro maestro sia il grande stratega di questo cazzo Perché se in realtà questa cosa fosse vera sarebbe stato un pochino più furbo Invece di rivelarsi E non ha tutti i torti E da un certo punto di vista anche il fatto di arrendersi agli assassini non avrebbe aiutato se assolutamente Però da un certo punto di vista sembrava strano E a quanto pare c'era un terzo fratello Prince King Che l'imperatore aveva La cui morte Sembra sia stata del maestro O quanto meno L'imperatore aveva accusato il maestro della morte del tesco fratello Si, non l'hai riconosciuto Doveva visitare il villaggio Si Si Si, come al solito Sei utile come un secondo Tu vomito Eri uno di quelli Eh, eh, si Eh, eh, eh Eh, si Eh, si No, vabbè, ma non lo vuoi più Però Vediamo che Questo è un po' Harsh Un po' Un po' diretto Però Vediamo come trovare Master Strom Se il mosquito Se il mosquito Abbiamo quindi Andrano Non sei così inutile Tutto insomma Um, there is a nice voice And we don't trust you Si, no, vabbè, ok È ovvio che questo Potrebbe fare il doppio giochismo Però, insomma Lo usi finché ti serve E quando non ti serve Eh, ne accenti le conseguenze Oddio, questo Forse un po' Sì Mettiamola così Va bene Sì Se in un villaggio Andiamo 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 Sì Speriamo Speriamo Per un bucio di uro Quindi Nemo 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 Ehm Che Ma facciamo Date Sicuramente Stavolta Morton A me Purtroppo Personalmente Più la storia E' carino non c'è nessuno però ecco la mosquito flyer yes oh dio carino oh dio oh dio oh dio oh dio oh dio oh dio buttaransi oh dio smooth landing ci sono arrivati vivi bene bene oh 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 cosa intendi no non sei oh 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 nice quindi quindi esatto anche con la mappa non è che ci andiamo molto quindi facciamo dobbiamo trovare tutte e due le cose non facciamo i sarcastici stronzi non non me lo dire non però andiamo in giro a chiedere ehm ehm sì sì però allora ho capito che ha 200 anni ma stai tranquilla che si sapevano più verso stesso non 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 Alla sud del villaggio è una forza, una ruota di intervento che entra nella città imperiale. Il villaggio è attraverso la pietra e fuori di una grande stona di marker. Guarda per il gigante rocco con un pietro di fischio, e saprai che sei in direzione. Oh fuck. Ehm... Dobbiamo andare in questo villaggio, che è quello Tien's Landing. Sì. E... Ha detto di cercare di questa pietra miliare con il disegno di un pesce. Sperando che ci vada il culo che la troviamo. In quel caso la direzione è giusta. Io non voglio portarmi dietro da su, però è quello che ne sa di più di queste parti. Sì... Alla... Ok, fai qualcosa. Ah, Rosso, mi ha fatto anche, un po' di più. Risso, non mi piace molto. Oh, non mi piace molto. Però solo posso fare una storia. Non mi piace molto. Cosa è un po' di più. E' un po' di più. Questa è una stessa più sicura, che ci siano un po' di più. Non lo so. Speriamo di sì. Quindi Two Rivers, il villaggio, è in rovina. Il maestro lì è stato rapito. È abbastanza chiaro che tutto questo enorme attacco sia stato orchestrato in maniera precisa e che queste forze dei Lotus Assassin in qualche modo abbiano preso interesse nel personaggio e su chi ti circonda. Quindi stiamo andando a cercare la Death Hand, il capo dei Lotus Assassin e andiamo a vedere. Se non avete visto Edizard e non sapete di cosa sto parlando, andate a vedervi Edizard. No, che magari mi serviva. Ma c'è qualcosa? Anche qua? Porga potana! Ah sì. Fa un culo. Mi sa che non è. Scusate. Porca pittana. E mori. Max. Ma. Ma che è figata, ma vuoi sei, ma è che è il doloreissimo. Che. Possessi essere di un'unica. la tua c'è di prima a spirit monk was here long ago fleeing the destruction that orphaned you he carried a piece of your amulet it was separated, broken apart so your enemies could not find it easily you have the first piece it trains your abilities now ok Ok, good. Sì, adesso, non rompere il cazzo, ma chi me la son scelta a sta stronza, eh? Cos'è di gratticante lì che non ci vuole? Sì, non sono. Allora, a quanto pare... Dai, su, stringi, finici questa roba. A quanto pare lo spirito che abbiamo incontrato nella quaverna ci ha detto che lo spirito monk precedente a noi era passato di qua. Con un altro pezzo dell'amuleto che ci aveva dato. Dice che... Come si dice... A guardia di questo pezzo, del secondo pezzo, c'è un... Mola, così si può... O comunque qualcuno che gli fa la guardia. E... Da quello... Da stavolta quello che abbia detto sia in... Una parte paludosa comunque di un fiume. Ha... Insomma, ha menzionato queste acque che si sono retratte. Quindi, probabilmente... Forse una caverna vicino... Dicino un fiume o... Non so se siamo da qualche parte vicino al... Al mare. E diceva che poi c'è un altro terzo pezzo dell'amuleto. Che però quello è da qualche altra parte. In un distant layer. Quindi quello arriverà in un altro momento. E... Invece il quarto pezzo, a quanto pare, non si può trovare. Ma si deve solo... Guadagnare. Grazie per essere così chiara. Spirito di sto cazzo. Comunque... Io direi che lascio qua. La parte... La parte che ci interessa è molto interessante. E... Il gioco più migliorato ancora. E... Vediamo un po' se possiamo fare qualcosina... Minchia! Sei punti! Eh no! Il Toad Neemon no, però... Allora... Vediamo... La Dire Flame. È veramente una figata! Quindi un... Paio di punticini ce li smetto perché è fatto. Ehm... Mica, cazzi! Ma quindi vuol dire... Bottana! Duration effects associated with the star receive a slight duration increase... No! Aumentiamo... Il danno... Perché mi piace. Ehm... Consume is less. Ah, questo... Meno C... Che comunque non è male, però... Mentiamo il danno perché mi piace particolarmente. Ehm... Golden star! Golden star! Damage increase! Focus reduction! Ah, questo sul focus! E l'altro invece sul C! Hmm... Questa l'abbiamo un po' trascurata, no? You cannot perform advanced cheese strikes in his style. Ehm... Questa invece è una cosa che consuma C e però... Se vuoi inventarla consuma più C. Hmm... Non... Non è che mi piace granché. Ehm... Facciamo una cosa... La Dire Flame secondo me la useremo... Abbastanza... La useranno, la useremo. Ehm... Abbastanza... Spesso. Quindi facciamo... Questa C. Ehm... Direi che va bene così. Il toad di magnoso. Cazzo, sì. Può essere interessante magari da provare più avanti. E a quanto pare arriverà anche quella della... Ehm... Come si dice? Sì, ok. Della... Dell'occhio della vipera. Forse bisogna trovare ancora un paio di pezzi e poi è fatto. Questo è il... Esatto, eccolo qua. The Hunt of the Viper. Quindi la vipera. Ehm... Ah, l'Iron Palme è sempre una dell'altra. Scroll... Boh... Sponiamo che prima ho... E poi questa è la... È la... È la... È la missione principale. Quindi la storia. Qui adesso non si vede granché. Diamo un bel salvateggino. Diamo un bel salvateggino. Che mi sembra carino. E... Grazie per avermi seguito. E... Passo... Passo l'obolo. Passo la staffetta. Al prossimo che mi succederà. Che credo sia il figlio. Jack. Scusate. Figura di merda. Non si poteva evitare verso la fine. Ehm... Boh. Direi che... Direi che è una bella storietta. Si fa un po' più fitta. Invece del... Solito... Nooo. Invece del solito cazzo di... Di villaggio. Che sinceramente aveva un po' rotto. Perfetto.